Nella relazione familiare accade che il legame affettivo, curatura e prolungato, va a instaurare una relazione molto profonda e una relazione molto intima. Questo è quello che deve assolutamente avvenire con il cane e che avviene con il cane se si hanno un certo tipo di comportamenti. Per il cane questo legame è la base sicura della relazione, per cui il cane troverà nel buco familiare, nella casa, quel posto a lui più congeniale per vivere una vita felice e serena. Solo a questo punto si avranno delle risposte emotive importanti da parte del cane. Bravissimo, seduto, bravissimo, seduto, bravissimo, bravo, bravo, terra, bravo topo, bravo topo, bravo topo, resta super, resta bravo, bravo, seduto, super dog, bravissimo. Vieni venti, stessi, bravissimo. Vieni venti in seduto, bravo topo, bravo topo, bravo topo, topo, vieni vieni vieni, super, bravo. Vieni, bravissimo, bravo, bravo. E' sempre l'emozione che governa ogni cosa per cui il cane più è attento a svolgere un'attività fortemente emozionale e meno attento al resto, almeno di una fortissima relazione con il proprio conduttore. Stiamo parlando di due cuccioli che hanno appena iniziato un percorso di formazione. E' bellissimo vedere che lasciano il gioco della lotta che per loro è qualcosa veramente di importante per ascoltare il comando che viene imposto dai conduttori. Veramente emozionante per chi conosce la materia. Vieni, vieni. Bravissimo, bravissimo. Bravo Totò, bravissimo. Bravo Totò! Bravo questo Totò! Ma che bravissimo che è Totò! Ma che bravissimo che è Totò! Ma che bravissimo, anche Totò è bravo! Vai, vai a giocare, vai a giocare. Vai, 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 to zabri, davai Buonanissima, vai, vai Una domanda frequente che mi viene posta è che tipo di tecniche usiamo per l'addestramento. La tecnica è una sola, seguire le indicazioni che il cane dà e soprattutto avere tanto amore per i cani, non per il proprio cane, ma per i cani e soprattutto un senso di responsabilità per i cani che ci vengono affidati. L'amore, questa è la tecnica. Non è pensabile che il cane salga a nostro livello, siamo noi che dobbiamo scendere al livello del cane. Io mi sono inventato una massina napoletana per mole e per gallina. Grazie 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 Grazie